la mamma mia no concordo con cordo si è appannato tutto meglio usare altri è però l'ultimo tratto come vuoi fare non lo so, è anche un muretto, cosa la fai? guarda guarda sai quel muretto sta solo quel passaggio al lato però da qua lo vedo quel passaggio ma poi ci sta guarda guarda puh guarda Grazie a tutti 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 Noi è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti